Musica Konnichiwa minasan e benvenuti qui nel mio canale sono come sempre Giappogamer e bene si allora eccoci qua tonati su Schoolgirls Second and Core per Playstation 4 per fare un episodio bonus una sorta di maschi contro femmine 2 contro 2 allora cpu partita veloce numeri team 2 ovviamente allora scegliamo Beowulf e Big Band facciamo così va ok contro filia e Pilwheel ok prende lo scenario casuale caricamento allora quindi eccolo qua il Beowulf è tutto il suo splendore anche filia ovviamente si vince al meglio delle 4 vittorie mamma mia che combo vieni qua filia va beccati questo vai così 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 vai sbatacchiala tutta grandissimo Beowulf così così yata bene bene ecco Beowulf no non abbagliare i comiti meno opportunità e Beowulf cavolo grandissimo tacci tua Beowulf non svolazzare a cauli cane su vieni qua fatti prendere no dai bene così di ginocchiata 1-0 per noi bene così take 2 round 2 grandissima combo acci vostri grande dai Beowulf vai così grande big band no così grandissima vai attacchiamole entrambi facciamo una bella combo big no non te ne andare cavolo grandissimo big no dai ok diamone una bella scampanellata grandissimo big così ti voglio botta secca adesso tocca pinwheel grande grandissimo grande Beowulf grande big ottimo così mamma mia stiamo veramente massacrando a pinwheel no cavolo oh e calmati oh così ottimo sì bene così that's a wrap ottimo così bene 2-0 per noi take 3 c'è round 3 no dai però Beowulf su coraggio cavolo come si parla figlia vieni qua grande big così ti voglio coi cazzottoni grande al volo tacci tua no cavolo super mossa ci ha fatto oh buona sta calma così big così big grande vai con la super mossa grandissimo big tocca pure a te vieni qua prendi questo così 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 vai così grande Beowulf così ti voglio ottimo così 3-0 ok round 4 mamma mia che pezza che gli ha dato Beowulf così così si fa porca miseria no dai bravo così attestate no cavolo porca miseria dai coraggio Beowulf grandissimo big band ci pensi sempre tu grande e vieni qua non svolazzare a caso pinwheel fatti prendere così ma dai non non fare verso il lupo quando non ci vuole e vieni qua così così grande big band grandissimo dai non svolazzare a caso su prendere oh così grandissimo grande cosa super mossa big ottimo così yatta yatta bene così ottimo così bene bene allora questo vogliamo poi tornare vabbè al menu principale ok bene questo episodio termina qui questo scontro fra maschi e femmine per quanto riguarda questo schoolgirls second and core spero che questo episodio bonus vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e fatemi sapere se vi piace anche a voi questo schoolgirls e ne la fate spiace questo episodio mi raccomando e se potete condividete nei vostri social network dal vostro giappogamer è tutto sayonara e al prossimo episodio ciao 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 ciao